15 giorni per cambiare il proprio destino, da partente assicurato con manovre in corso anche per la risoluzione consensuale del contratto a possibile componente del Bari che verrà. Protagonista Manuel Scavone, esperto centrocampista, nato il 3 giugno 87, che ha rientro in bianco rosso dalla stagione in prestito a Pordenone in Serie B. Si sta giocando nel ritiro di Storo, le sue carte per la conferma in organico. Merito di caratteristiche umane, ancor prima che tecniche, che hanno impressionato Mr. Mignani, lo staff tecnico e il direttore sportivo Polito. Nei giorni più difficili dell'era Covid per il Bari, con più di un terzo della rosa risultato positivo ai tamponi e un gruppo costretto a lavorare con allenamenti individuali e senza test amichevoli, in Trentino Scavone si sta rivelando collante prezioso per il gruppo, elemento che unito alla sua capacità in una mediana 3, modulo prediletto da Mignani, e a un ingaggio pesante per la categoria che complica le trattative per una partenza in un mercato già bloccato, potrebbero ipotecarne il futuro a Bari. Il giocatore, tornato in Puglia nel 2019 a sette anni dal suo addio per contribuire al tentativo di ritorno in B del club della famiglia De Laurentiis, potrebbe eseguire il percorso già tracciato dal compagno di squadra frattali. Spalmatura dell'ingaggio previsto per la prossima stagione su un biegno e prolungamento del contratto fino al 2023. Esperto in promozioni, è salito in C1 con il Sud Tirol nel 2010, con Parma e Lecce in Atra, il 2018 e il 2019 Scavone sogna il poker a Bari. Una rincorsa che lo accomuna anche a Capitan di Cesare, pronto per la sesta stagione in bianco-rosso. Esperienza e rivalsa, due caratteristiche che Polito, rientrato in Trentino lunedì sera, sta reperendo sul mercato, dove il Bari ha sin qui concluso sette movimenti, gli arrivi di Belli, Derrico e Cheddira, le partenze di Berra, Ciofani, Candellone e Dorazio. La sensazione è che di qui al gong delle trattative il numero complessivo di operazioni sarà almeno triplicato. Il prossimo acquisto sarà quello del terzino sinistro Antonio Mazzotta, classe 89 e svincolato dopo l'esperienza in Acrotone. Sono stati i contagi da Covid-19 in organico a sconsigliare al club di aggregare il difensore al gruppo già a storo, ma l'intesa di massima per un contratto biennale resta assolutamente valida e sarà presto messa nero su bianco. L'ipotesi più consistente prevede l'arrivo di Mazzotta a Bari in tempo per conoscere il suo nuovo allenatore e i compagni mercoledì prossimo quando la squadra riprenderà i lavori in città. Con vista sulla Coppa Italia, il qui start è slittato di una settimana, si giocherà il 21 agosto e non più il 14.